da notare ragazzi che sono le 8 ed è ancora giorno 20 e 04 troppo bello piano su instagram anche su youtube se vuoi che bello voglio andare su youtube gattina guarda la zampina lo sai leo che il telegiornale ha detto che le scuole riaprono a settembre vabbè finché ho un gatto non sei tanto contento no lo so tu che ne pensi gattina vuoi andare a scuola tu vuoi andare a scuola mattina ehi ehi cosa ha sentito un uccellino ha sentito ehi ehi che cosa hai fatto stamattina cosa hai fatto stamattina ha ucciso una lucertola una cavalletta un uccello sei una delinquente tu ecco vuoi andare a caccia miau vuoi andare agli uccellini ehi un uccellino eccolo ah quando l'ha vissi ah eccola leo stava aspettando papi per mangiare quella fa dove 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 vuoi andare tu eh cosa vuoi fare tu eh cosa vuoi fare tu no che c'è freddo però cosa fai cosa fai cos'è che fai eh guardate 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 senti rumore guardate guardate sto facendo rumore col piede qua guardate guardare guardate guardate ma dov'è che senti caldo? non c'è caldo sono le 8 di sera e c'è il suono e tu e tu piuma guardiamo piuma ciao perché sei sempre lì dentro piuma no non è andata vediamo piuma ciao no 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 non puoi uscire non puoi uscire c'è un gatto c'è un gattino lì guarda non puoi uscire non puoi uscire ma non esce sai non mi casca non salta non esce c'è un poverino di un coniglio 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 non puoi uscire non puoi uscire dove arriva il gatto il gatto è lì tu vedi ehi gattino saluta i ragazzi ciao 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 ciao